Ho trovato nel 2012 una sottolineatura esagerata sulla questione dell'Imu, e poi quegli stessi Toulouseau che sembravano che l'Imu facesse mangiare pane e cipolla a 20 milioni di famiglie italiane, oggi dicono ma chi se ne frega dell'Imu, no no va bene, ma quattro soldi, una media di 200 euro, per dare l'osso a Berlusconi oggi sono diventati anche rigoristi, ma chiusa questa parentesi faccio notare che il Consiglio dei Ministri non ha che ha discorso di occupazione, ha discorso di cassa integrazione in deroga, che insomma è tutela, è tutela, è metterci una pezza alla disoccupazione, però non è la cosa di occupazione, poi vedi io devo dire che... E tu sei d'accordo sul fatto che si rinnovi la cassa integrazione in deroga? Io sono d'accordo, però devo dire che non può essere la via strutturale, perché... Però ogni volta ci facciamo prendere dall'emergenza e... No, no, infatti, infatti la riforma Fornero prevede uno sbocco per i settori che non hanno la cassa integrazione in guadagni, che sono i fondi interprofessionali, non sarebbe giusto che ci andasse avanti in cui una parte del mondo produttivo la cassa integrazione ce la paga e un'altra glielo paga lo Stato, uscito da questa fase di emergenza, anzi se io fossi qualcuno che conta come mio amico Damiano... Io chiederei alle parti sociali, io direi alle parti sociali, care parti sociali, noi la cassa integrazione in deroga ve la finanziamo, però voi vi sedete intorno a un tavolo e cominciate a mettere giù una proposta per quanto riguarda i fondi interprofessionali, non è che non ci rendiamo conto del fatto che siete strangoli, però questa è l'ultima volta che ve la finanziamo, dal 2013 in avanti cercate di finanziarla da soli. Grazie 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 Grazie